un K2 l'altro 8 high 10 1 è il resto ma dove sta la 6-8 di me e vai Alla tiro giù L'Auto non mi dispiace però no BATTIBILE! Madonna, è un macello che non vanno... 3KILL! BASTA! BASTA! Cioè, no, mi sta fatica a vedere i progetti, a farlo un po' in modo... Cazzo, prima avevo... avevo un sacco di roba, e me l'ha sbetragliato quello... 4KILL! Ragazzo... Tanto ci sono lenzani, vado un po'... 3KILL! Cazzo che c'è nu raga! Sii pazzito! Ora muori. Dalla mia, si muera troppo lentamente... La grafica è migliorata un po'... La grafica è migliorata un po'... La grafica è migliorata un po' La grafica è migliorata un po'